Nel momento del loro cuore gli interventi che hanno fatto queste ragazze. Un'altra cosa voglio dire, voglio cantare un saluto a Ione D'Arcidi, la partigiana che oggi non è qui perché non stava tanto bene. Certo, pazzo l'anno. E voglio anche salutare un'altra partigiana, Teresa Veritanni. E lei mi ha detto, quando vai a Tappa San Paolo, saluta di tutti i presenti. Cari compagni, cari amiche, cari amici, con commozione sono qui con voi a festeggiare il 25 aprile a Porta San Paolo, perché è il simbolo della resistenza. Voglio ricordare alcuni tanti nodi che hanno contribuito a cambiare la storia del nostro paese. Carla Capponi, Sasa Bertinezza, Mario Florentini, Lucia Ottobrini, Yolanda Feandoli, Adriata Romoli, Marisa Busi, Maria Vitetti, Giovanna Parturano, Nando Cavatera e molti altri ancora, troppi per ricordarvi tutti. Oggi più che mai abbiamo il dovere di contribuire a tenere alti i valori di libertà, di giustizia e di solidarietà, trasmettendoli alle nuove generazioni. Non dimentichiamo mai chi ha dato la vita per costruire la democrazia e liberare l'Italia. Nel nome... Ne perdoneremo mai chi ha imprigionato, torturato e ucciso in nome del regime voluto da Bussolini e dai genasti fascisti. La mia rabbia è rivolta a chi, a distanza di 80 anni, ancora prova a dipingere i partigiani come terroristi. Proprio come farmi i propri rappresentanti della testa italiana. Oggi è al potere. Quando dicono che i morti sono tutti uguali, a questi voglio dire di sbagliare chi è morto per la libertà, chi merita il rispetto della collettività e gli amori delle istituzioni. Chi è morto indossando la camicia nera merita solo pietà. Oggi celebriamo con orgoglio la liberazione dell'Italia dalle canarie fasciste, dalla veribile occupazione nazista. Carissimi, compagni, amici, amiche. Oggi è la nostra festa, il 25 aprile, la festa di tutti gli italiani, di tutti gli italiani, ma anche di tutte le persone che condividano le nostre parole tortide. Antifascismo, libertà, democrazia e pace. Non dimentichiamo l'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripugna la guerra come strumento di offesa alla libertà degli assi popoli e come mezzo di risolvere in soluzione delle controversie internazionali. Oggi perché da qui nasce la nostra Costituzione. Il 25 aprile è un momento di celebrazione che nasce dalla volontà di ricordare l'insurrezione armata dei compagni partigiani di Torino, Genua, Milano e di tante altre città liberi. Anche a Roma si è combattuto proprio qui a Porta San Paolo nonostante la bruteltà delle SS, la repressione, le torture, gli arresti e le deportazioni. Ricordatevi che i tedeschi avevano ripicito tutti i generi alimentari per le loro esigenze vendite affamando la popolazione. Allora le donne partigiane organizzarono gli assaltai forni protette dai partigiani armati. E ricordiamoci le 10 donne morti uccise a Cote di Ferro proprio tutti i città offienti. Voglio dirvi che le donne partigiane hanno organizzato l'assalti al Mordi protetti dai partigiani armati. Quello che veniva preso era distribuire alle famiglie degli arrestati dei condannati a morte quelli da Forse Brannetta alle forze aziende e alle famiglie poi. Noi che abbiamo partecipato alla lotta partigiana abbiamo il dovere di raccontare e testimoniare. Voi tutti avete il dovere di ricordare e trasmettere e insegnare alle nuove generazioni. insieme siamo stati chiamati a costruire una società libera ed equa fondata sulla nostra Costituzione sui principi di libertà di giustizia di solidarietà nessuno si sente escluso nessuno dia per scontato che la libertà sia una conquista assopata conquistata per sé libertà lavoro istruzione sanità giustizia ma hanno difeso tutti i giorni tutti i giorni dell'anno se non siamo capaci tutti insieme di difendere questi diritti per tutti nessuno escluso il 25 aprile è solo un giorno sul calendario dobbiamo combattere dobbiamo combattere affinché questo non succeda dobbiamo attraverso le tessino nianze lo studio della storia il dialogo costruire la coscienza dei giovani che saranno la memoria storica di chi verrà dopo di loro perché ricordiamoci che una nazione senza memoria è una nazione senza futuro i nostri partigiani saranno alle 5 in quarta d'arco di Travertino alla piazza quadrata per un incontro con tutti e tutti